Rispondo ad un commento ricevuto su YouTube. Mi si chiede un parere sull'email anonima tuta nota. Forse ti starai chiedendo a cosa possa mai servire una casella email anonima. Faccio giusto un rapido confronto con Gmail. Se hai una casella Gmail, Google ispezione il contenuto delle mail che invii e ricevi per cercare di creare un profilo pubblicitario e mostrarti quindi le pubblicità sul quale è più probabile che tu vada a cliccare. Esistono però dei servizi che sono 100% anonimi. In un'altra cosa di computer ho esaminato ProtonMail che offre caselle di posta anonime e cifrate. Tutanota è un servizio alternativo a ProtonMail. Ho confrontato i due servizi e devo dire che sono sostanzialmente identici. Tutanota offre in più anche una lista di contatti ed un calendario. Le versioni premium costano meno rispetto a ProtonMail. Tra i due servizi ti consiglierei pertanto di scegliere Tutanota.